Musica Bene, eccoci insieme ancora una volta. In questa puntata torniamo a parlare di un tema che c'è caro, vale a dire la lotta alla contraffazione che costa annualmente al nostro paese miliardi di euro, nonché tanti posti di lavoro. È l'occasione anche per ricordare che acquistare merce contraffata significa favorire lo sviluppo del malaffare. Lo facciamo però con un progetto positivo, ne parliamo con Eliana Turbian che ne è il project manager. Il progetto si chiama Rete Innovativa Regionale Face Design e interessa il calzaturiero della Riviera del Brenta. La nostra ospite oggi è in Velvet Media ma è stata per anni all'interno del Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta, una delle eccellenze dell'industria artigianale e industriale italiana. Detto ciò, spieghiamo il progetto perché il progetto riguarda una cosiddetta etichetta parlante. Esatto, è un progetto che è stato appunto presentato con la collaborazione del Politecnico Calzaturiero, delle Università di Venezia, dell'Università di Padova, di Verona e finanziato con appunto delle iniziative che fanno capo alla Camera di Commercio. È un progetto che ha proprio l'obiettivo di certificare e valorizzare i prodotti delle aziende calzaturiere del distretto della Riviera del Brenta. È un progetto che vede ad oggi la partecipazione di una decina d'aziende, per lo più appunto si tratta di aziende calzaturiere. Ci sono anche due eccellenze del settore occhialeria, quindi un'azienda di Belluno, e del settore tessile, un'importante camiceria con sede a Vicenza. Quindi il progetto parte dal calzaturiero ma interessa il sistema moda. Esatto, il sistema moda perché l'obiettivo è quello di sensibilizzare quello che è il valore del Made in Italy e lo si fa con una certificazione, un'etichetta parlante, appunto un chip che viene inserito all'interno del prodotto o della collezione che l'azienda intende certificare e il cliente finale, il consumatore, può accedere alla lettura dei dati caricati sul chip tramite un'applicazione da smartphone. E questa applicazione cosa racconterà al cliente? Beh, l'applicazione presenta quello che è lo scopo del progetto, la linea di finanziamento associata e presenta quello che è la storia dell'azienda che è andata a produrre la calzatura piuttosto che l'occhiale o la camicia. Va a certificare l'intera filiera produttiva, quindi i materiali utilizzati, le lavorazioni, il tutto Made in Italy e più delle volte anche proprio Made in Venice. Ecco, detto così sembra uno strumento promozionale. In realtà è uno strumento di certificazione. A tutti gli effetti è uno strumento di certificazione, un'etichetta appunto LaborCert, tutti i dati che l'azienda inserisce e dichiara sono certificati e validati da un processo appunto di analisi che fa capo alle camere di commercio, quindi a tutti gli effetti è un'etichetta che non si può contraffarre perché il chip è appunto all'interno della calzatura e rende ogni singolo prodotto unico e inimitabile. Anche perché poi il chip è uno strumento informatico, quindi insomma è complesso riuscire a contraffarre un sistema. Esatto. Questo chip garantirà il cliente in che maniera, vale a dire, se non me ne è un pochino interessato. Alcuni sistemi permettono al cliente di fotografare con lo smartphone il chip e se l'immagine che non gli appare sul telefonino è quella giusta, insomma vuol dire che quel prodotto lì in realtà è contraffatto. Funziona così anche in questo caso? In questo caso c'è proprio una lettura diretta tramite un'app, quindi su un sistema cloud vengono precaricati tutti i dati dei chip ed è praticamente impossibile la contraffazione, bisognerebbe accedere a questo sistema cloud, modificare quelli che sono i dati registrati da ogni singola azienda, quindi nulla è impossibile, però di sicuro è stato implementato un sistema che va a tutela massima del cliente finale. Questa certificazione di prodotto interessa solo il processo o interessa anche le materie prime? Anche le materie che sono state utilizzate. Ci sono il distretto appunto della riviera del Brenta, è famoso e riconosciuto proprio per, da un lato la maestria e l'artigianalità con cui appunto vengono realizzate queste calzature, ma anche per tutta l'attività di ricerca e di studio delle materie prime che siano i più funzionali possibili, anche alla realizzazione di quelli che sono i modelli più complessi. Sono molte le scarpe contraffatte? Contrafatte non lo so, di sicuro tanti provano ad imitarli, ma il risultato è evidentemente impossibile da copiare in tutti i suoi dettagli. Però la necessità di avere una certificazione di prodotto evidentemente è testimonia che comunque c'è un danno sul mercato internazionale, perché questa è un po' la dimensione delle calzature della riviera del Brenta. Esatto, questo da un lato, da un lato c'è anche un altro aspetto che è positivo a sostegno di quella che è l'imprenditoria del territorio, perché riporta alla luce anche tutte quelle linee a marchio proprio, che non sono i grossi brand, ma che sono delle realtà produttive locali che hanno altrettanto valore e capacità appunto di essere quotate sul mercato, alla pari magari dei brand più conosciuti. Approfitto della sua presenza per spendere anche due parole per il Politecnico Calzaturiero. Che scuola è? Perché magari è poco conosciuta. Esatto, il Politecnico è un'eccellenza per quanto riguarda il percorso formativo superiore, è praticamente l'unica scuola in Italia dove è possibile seguire tutti quei percorsi di formazione per specializzarsi nel mondo, sia delle calzature che della pelletteria. Ci sono diversi percorsi di studio che affrontano la parte magari di progettazione tecnica, progettazione CAD, la parte stilistica e la parte anche di industrializzazione. Quindi alla fine di quelli che sono i tre anni formativi del percorso classico, i ragazzi hanno acquisito le competenze tecniche, le conoscenze, ma anche la manualità necessaria ad essere direttamente inseriti in azienda. Ma al Politecnico si accede dopo le medie o dopo le superiori? Dopo le superiori ci sono diverse forme di frequenza, dalla scuola tradizionale che appunto per storicità è strutturata in moduli che vengono erogati solo al sabato, questo perché molto spesso le persone lavorano e frequentano la scuola, a tutta una serie di percorsi paralleli, l'ITS, collaborazioni con altri istituti che prevedono dei percorsi dal triennale all'annuale a seconda della specializzazione. Quindi riesce ad offrire veramente una panoramica formativa completa. Ed è alta la richiesta di partecipazione? È altissima la richiesta di partecipazione, ci sono studenti da tutta Italia e ultimamente il Politecnico si è esposto molto anche con dei progetti internazionali, quindi abbiamo anche delle richieste dall'estero, perché comunque il valore della calzatura Made in Italy è riconosciuto in tutto il mondo. Ecco, la scuola sforna, se mi permette, comunque esperti in calzatura to cure, non calzatura della Riviera del Brenta, poi uno in effetti può frequentare il Politecnico e andare a Vigevano che è un'altra capitale della scarpa italiana. Esattamente, ovviamente in Riviera vengono prodotte per lo più calzature da donna, anche se ultimamente c'è una tendenza di sviluppo e lavoro per quanto riguarda le sneaker. Comunque il Politecnico... In Riviera del Brenta? Anche in Riviera del Brenta, perché comunque la sneaker si è entrata in quelle che sono le collezioni, le collezioni lusso, le collezioni di alta gamma. Sneaker, potremmo banalmente dire scarpe da ginnastica di una volta, quelle che... Sì, diciamo così, esatto, anche se poi comunque rimane il distretto meramente sportivo. Scarpe sportive, ecco. Esatto, il cuore ovviamente del distretto sportivo è nel Trevigiano, Montebelluna e Limitrofi, con i quali comunque il Politecnico collabora, tant'è che c'è un indirizzo di studio specifico per le calzature tecnico-sportive e anche per le calzature fatte a mano, quindi anche le calzature da uomo. Tornando a parlare del progetto Face Design, a che punto è? Perché è una sperimentazione, mi parla di aver capito. Esatto, è un progetto che prevede l'attività di diversi soggetti. Ci sono degli enti tecnici che in collaborazione con le università sviluppano questa tipologia di chip che deve avere delle caratteristiche particolari in funzione del tipo di prodotto su cui sarà inserito. Le università stanno attivando dei laboratori anche in collaborazione con le aziende per tutta questa fase di test. Parallelamente, anche noi appunto come Velvet, quindi come agenzia di marketing del progetto, stiamo lavorando con ciascuna delle dieci aziende coinvolte nel creare dei piani di comunicazione, di marketing ad hoc per valorizzare il progetto, l'etichetta parlante e per valorizzare le aziende appunto che ne fanno parte. La tecnologia di chip è ancora da definire, se RFID, NFC o che altro? Dipende sempre dalla tipologia della calzatura, ad esempio per quanto riguarda l'azienda. Non solo perché credo che alla fine, banalmente, forse inserire il chip nella calzatura è più facile che inserirlo ad esempio in una camicia. Infatti, infatti. Prima perché la camicia non deve essere evidente e poi perché la camicia la si lava. Esatto, infatti lì le aziende, appunto la camiceria coinvolta nel progetto, al momento ha deciso di inserire un QR code in un'etichetta dedicata sulla linea nella quale appunto ha attivato la certificazione. Tra l'altro hanno due tipologie di QR code, una per una produzione italiana e una per una produzione estera. Sì, perché all'estero è molto più usato questo sistema. Esatto, l'azienda del settore appunto dell'occhialeria sta testando diverse tipologie di chip a seconda dell'asta, quindi resina piuttosto che titanio e quindi il posizionamento del materiale. Le calzature, le due problematiche che si stanno affrontando sono le temperature di montaggio e il tipo di collanti usati. Le aziende che sono coinvolte sono aziende medio-grandi perché, non dico il problema, ma uno degli aspetti da affrontare nell'applicare queste tecnologie è che viene anche in qualche maniera condizionata la linea produttiva, quindi il modo di fare, il modo di lavorare. Cioè talvolta un'azienda artigianale piccola ha difficoltà. Esatto, sono aziende comunque strutturate, aziende che hanno sia un proprio marchio sul quale appunto si lavora, con la certificazione, sia una produzione, magari per i grossi brand, quindi hanno una linea produttiva che è strutturata per gestire i carichi di lavoro a seconda delle collezioni dei prodotti e di sicuro si sono strutturati anche internamente per dedicare un'attenzione particolare a questo tipo di iniziativa. Il progetto si concluderà quando? Un anno di attività, quindi dovrebbe concludersi per maggio del prossimo anno. Appena cominciato. Esatto, è appena iniziato, infatti l'obiettivo è quello di lavorare moltissimo in questi primi mesi per mettere appunto in campo tutte quelle azioni anche comunicative e di marketing, soprattutto a livello social e web, per arrivare a settembre, in occasione magari del MICAM, la fiera di settore di Milano, e presentare una prima analisi di quello che è lo stato avanzamento progetto. Le università coinvolte? Le università coinvolte hanno il doppice compito. Quali sono innanzitutto? L'Università di Verona e l'Università di Padova. Hanno il duplice compito di, da un lato, verificare quella che è appunto la tecnologia legata all'inserimento del chip, dall'altro tutto l'aspetto normativo, giuridico normativo, che va a certificare i contenuti caricati. E quindi hanno questo compito anche di creare dei laboratori di confronto con le aziende, diventa anche per le aziende un momento di formazione e aggiornamento molto importante. Grazie a Deliana Turbian, project manager della rete innovativa regionale Face Design. Face Design. dedicata appunto all'individuazione di un'etichetta parlante a tutela dei prodotti del settore moda, e in particolare il calzaturiero della Riviera del Brenta. Grazie, buon lavoro. Grazie. Alla prossima. Grazie.